Allora, parcheggio o giardino per voi, qual è la soluzione ideale? La soluzione ideale è il parcheggio, per aiutare anche i commercianti perché è una zona che sta morendo, stanno chiudendo negozi uno dietro l'altro, vedo più il parcheggio che tenere il verde, che ce n'è uno di là tenuto in degrado, se lo facciamo qui di qua sono due in degrado. Se poi voglio mettere la fontana, si può fare anche la fontana. Però il parcheggio per voi sarebbe l'ideale? Sarebbe l'ideale il parcheggio per noi, sì. Assolutamente un parcheggio, perché il centro storico ha bisogno di parcheggi limitrofi per far venire gente in centro e dare questa possibilità e parcheggiare anche magari con discorare oppure parchimetria a pagamento, quindi per le casse del comune potrebbe essere sempre una cosa positiva. Allora, per voi che lavorate col pubblico, con l'utenza, qual è la soluzione ideale? Lì l'ideale sarebbe creare il parcheggio, creare un parcheggio perché è utile per il centro, è utile oltre che per la via qui per tutto il centro e anche per la scuola, per il corridone. Perché qui in Boccavur quei pochi parcheggi che ci sono vanno subito esauriti? Sì, questi sono pochi, sono a pagamento, sono pochi e quelli si riempiono subito la mattina quando già apri alle otto e mezza, nove già sono tutti pieni. Parcheggio e giardino, tutti e due parcheggio, piante che tanto non guasta mai, le decorazioni sono sempre belle. Allora, voi siete proprio adiacenti all'area in questione, parcheggio sì, parcheggio no? Parcheggio sì, assolutamente sì, siamo a favore del parcheggio perché siamo vicino a un'area centrale, ci sono i negozi, sarebbe bello sì un po' di verde, un po' un giardinetto però è necessario un parcheggio perché non abbiamo, sia noi che ragazze che lavoriamo che anche chi deve andare in centro fa fatica. Lo spazio c'è anche per creare un piccolo spazio verde, si potrebbe fare tutte e due, volendo? Non so se si riesce onestamente, non so, bisognerebbe studiare la cosa per bene però se si potesse magari. Il parcheggio sarebbe comunque l'ideale? Sì, sicuramente, sì, magari non a pagamento così almeno abbiamo anche questa cosa in più insomma così ci agevola anche noi che dobbiamo lavorare, sarebbe l'ideale un bel parcheggio non a pagamento. Siamo nei giardini adiacenti alle scuole Corridoni, ce ne siamo occupati più volte di questo spazio verde anche stimolati e chiamati dai residenti che hanno denunciato come essere questo un luogo più che altro di aggregazione di persone adulte e tutt'altro affacendate. Poco frequentato da mamme e bambini questo spazio, dall'altra parte si vuole ricreare una situazione simile a questa o fare un luogo in cui si possa dare fiato al centro e quindi ai commercianti creando una situazione favorevole per questa? vediamo quale sarà lo sviluppo futuro di quell'area.